Ben ritrovati su Sicilia 24, apriamo questa nuova edizione di Spazio e Notizia parlando di Covid, è uscito il nuovo bollettino del Ministero della Salute dunque andiamo a vedere i numeri in Sicilia e sono numeri in netto miglioramento, sono infatti 980 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia a fronte di 8.639 tamponi, il tasso di positività dunque scende ancora e si attesta oggi all'11,3% con la Sicilia che adesso è al dodicesimo posto per contagi in Italia, gli attuali positivi sono 97.986, i guariti 4.161, purtroppo però ci sono ancora vittime, sono 10 e portano il totale dei decessi dall'inizio della pandemia a 10.737. Andiamo a vedere invece i numeri sul fronte ospedaliero, al momento i ricoverati sono 717, 11 in meno rispetto a ieri dunque il decremento continua, mentre in terapia intensiva ci sono al momento 10 persone, 2 in meno rispetto alla giornata di ieri. Per quanto riguarda a livello provinciale il maggior numero di nuovi casi si è registrato a Palermo, poi a Catania con 157 casi, a Palermo sono 210, Messina invece 121. A proposito di Covid, questo è il bollettino odierno, ma la Regione ha diramato anche il bollettino della scorsa settimana, quello relativo dal 2 all'8 maggio e anche in quel caso si registra un decremento delle nuove infezioni da Covid, decremento che abbiamo visto adesso anche in questi ultimi giorni, ma facciamo il punto proprio sul bollettino della scorsa settimana. Nella settimana dal 2 all'8 maggio si registra un decremento delle nuove infezioni da Covid in Sicilia, lo dice il bollettino settimanale della regione siciliana. Il tasso di nuovi casi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Siracusa e Messina. Le fasce d'età maggiormente a rischio risultano quelle tra gli 11 e 13 anni e tra i 6 e i 10 anni, incidenze superiori alla media in generale tra i 6 e i 18 anni. Le nuove ospedalizzazioni continuano a diminuire. Questi invece i dati relativi alla campagna vaccinale che fanno riferimento alla settimana dal 4 al 10 maggio. Nella fascia d'età 5-11 anni i vaccinati con almeno una dose si attestano al 27,51% del target regionale e 74.440 bambini, pari al 23,64%, risultano con ciclo primario completato. Gli over 12 anni vaccinati con almeno una dose si attestano al 90,6%, mentre risulta aver completato il ciclo primario l'88,77% del target regionale. Attualmente 889.933 cittadini, dice la regione, possono effettuare la somministrazione booster, ma non l'hanno ancora fatta. Complessivamente i vaccinati con terza dose sono 2.719.424, pari alla 75,34% degli eventi diritto. Dal 1 marzo è iniziata la somministrazione della seconda dose booster, la quarta dose, per gli over 12 con mancata compromissione della risposta immunitaria e che hanno già completato il ciclo primario da almeno 120 giorni. Dal 12 aprile è stata estesa la somministrazione della quarta dose agli over 80 ospiti dei presidi residenziali per anziani e ai soggetti tra i 60 e 80 anni affetti da condizioni di particolare fragilità. Dal 1 marzo sono state effettuate complessivamente 12.853 somministrazioni di quarta dose, delle quali 8.729 ad over 80. Ed ora la cronaca maltrattava l'ex compagna e i figli piccoli di lei, per questo un uomo violento è finito in manette ad Adrano. Vediamo il servizio. La polizia ha arrestato ad Adrano un giovane di 23 anni con precedenti per reati contro la persona, resosi responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni in danno della ex compagna di 28 anni e dei figli di quest'ultima, nonché dei reati di violenza e resistenza pubblico ufficiale. A notte fonda, a seguito di richiesta telefonica di soccorso da parte di una donna, operatori della volante si sono recati immediatamente presso l'abitazione di quest'ultima, dove hanno visto l'uomo, già noto agli agenti, mentre teneva in braccio con una mano una bambina in tenerissima età e con l'altra mano strattonava violentemente una donna tenendola per i capelli. Il tutto alla presenza di altri due bambini che assistevano terrorizzati a quanto stava accadendo. I poliziotti hanno cercato di calmare l'uomo tentando, nel contempo, di prendere la bambina per impedire che nella concitazione potesse rimanere ferita. Venuti meno ai maggiori rischi, poiché la donna si era divincolata prendendo in braccio la bimba, il personale intervenuto, interponendosi tra le parti, ha cercato di comprendere cosa fosse successo e tentava di calmare l'uomo, il quale, anziché placarsi, ha ricominciato a inveire contro la donna, offendendola per poi, all'improvviso, tentare di avventarsi contro di lei, venendo immediatamente bloccato dai poliziotti. Ne è seguita una collottazione a seguito della quale l'aggressore è stato arrestato e associato presso la casa circondariale di Piazza Lanza. A Mazzara del Vallo invece un uomo ristretto ai domiciliari continuava a maltrattare e minacciare di morte la propria moglie che alla fine lo ha denunciato, lui ovviamente è stato arrestato. Vediamo il servizio. I carabinieri della stazione di Mazzara del Vallo hanno arrestato un 36enne del posto in esecuzione del provvedimento emesso dall'ufficio di sorveglianza di Trapani che ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere. In particolare l'uomo, mentre si trovava ristretto presso la propria abitazione per reati in materia di sostanze stupefacenti, avrebbe posto in essere maltrattamenti nei confronti della moglie convivente con continue aggressioni fisiche e verbali, nonché minacce di morte. Queste circostanze hanno indotto la vittima, ormai giunta all'esasperazione, a chiedere l'intervento dei militari dell'arma presso l'abitazione coniugale. Le attività svolte dai carabinieri hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza in merito all'ipotesi di maltrattamenti in famiglia. Valutate le risultanze delle indagini dell'arma, la competente autorità giudiziaria ha ritenuto necessaria l'emissione di un provvedimento più afflittivo. Al termine delle formalità di rito, dunque, l'uomo è stato condotto presso la casa circondariale Pietro Cerulli di Trapani. E ci spostiamo virtualmente a Melilli per parlare di un altro fatto di violenza. I carabinieri della locale stazione hanno arrestato un cinquantotenne di sortino. L'uomo, operaio forestale, seppur sottoposto al divieto di avvicinamento all'ex compagna con l'applicazione della braccialetto elettronico, ha violato le disposizioni imposte dalla misura cautelare per i continui maltrattamenti che nel corso del tempo ha perpetrato nei confronti della donna. Nell'ultimo mese, infatti, si è più volte regato a Melilli dalla sua ex compagna, seguendola e in una occasione l'ha anche colpita con uno schiaffo. Per tali motivi, l'autorità giudiziaria di Siracusa ha disposto l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Adesso una notizia invece che ci arriva da Gela, dove i carabinieri della locale stazione, quelli del NAS, del Regimento Sicilia e dell'Ispettorato del Lavoro hanno accertato nuovi casi di lavoro irregolare. Tre dipendenti di un'attività, infatti, lavoravano senza copertura contrattuale. La licenza di queste attività è stata sospesa. I NAS, inoltre, hanno accertato irregolarità anche in un altro esercizio commerciale con la presenza di alimenti scaduti. E ancora cronaca, stavolta con una news da Canicatti, dunque nell'Agrigentino, ennesimo furto nella notte. Stavolta i malviventi sono entrati all'interno di un negozio di Viale della Vittoria sfondando la vetrina con un masso e rubando il registratore di cassa con all'interno soltanto 20 euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno subito avviato le indagini. Il danno provocato al commerciante non è stato ancora quantificato. Vi mostriamo adesso delle immagini che già da sole, insomma, si commentano da sole. Ecco, diciamo così. Si riferiscono a un fatto avvenuto a Scordia lo scorso 6 maggio durante una partita di calcio del torneo allievi under 17 provinciali. Ebbene, in seguito a questa situazione il questore di Catania ha emesso nove provvedimenti di daspo nei confronti di altrettanti giocatori, tra l'altro tutti minorenni. Ma cosa è successo di specifico? Al termine dell'incontro alcuni giocatori hanno accerchiato e aggredito gli avversari mentre esultavano per il risultato ottenuto. Subito dopo dagli spalti sono anche entrati in campo alcuni tifosi che si sono uniti all'azione violenta. Solo l'intervento dei carabinieri ha riportato l'ordine in campo. A seguito delle violente aggressioni uno degli assistenti arbitrali, sette giocatori e l'allenatore della squadra di casa sono stati costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso. A causa di questi comportamenti gravissimi ai nove giocatori è stato fatto divieto di accedere agli stadi dove si disputano incontri di calcio di tutte le categorie, quindi dal professionismo ai dilettanti ma anche per il calcio giovanile. E adesso una notizia da Messina, un'operazione della Guardia di Finanza che ha portato a un sequestro beni di oltre un milione di euro. Vediamo perché. La Guardia di Finanza di Messina ha sequestrato beni per oltre un milione di euro a una società di trasporto maritmo e costiero di passeggeri. Nello specifico il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina su richiesta della locale procura della Repubblica per recuperare le imposte sottratte a tassazione. I militari del gruppo di Messina hanno sequestrato provviste finanziarie riconducibili alla società per un valore di oltre un milione di euro, importo pari all'evasione posta in essere negli anni 2016-2017-2018, constatata a seguito di apposito controllo fiscale attraverso agevolazioni fiscali consistenti nella detassazione del reddito e previsti per il comparto della navigazione. Più in particolare la società in argomento beneficiando di tale regime agevolato avrebbe sottratto a tassazione nella misura dell'80% il reddito derivante da una particolare forma di noleggio di una nave iscritta nel registro internazionale al quale secondo ipotesi d'accusa non avrebbe avuto diritto. Ed ora parliamo di eventi culturali e anche sportivi. Cominciamo intanto da quelli culturali e questo è certamente una iniziativa da notare, quindi segnatevi bene questa notizia con il biglietto di ingresso al prezzo simbolico di un solo euro. Sabato prossimo in Sicilia sarà possibile visitare i principali musei regionali grazie all'adesione della regione su indicazione dell'assessore dei beni culturali Alberto Samonà alla Notte Europea dei Musei, appuntamento annuale che si svolge contemporaneamente in tutta Europa. L'orario d'apertura dei musei va dalle 19 alle 23, alcuni siti invece anche con chiusura alle 24. Dunque segnatevi questa iniziativa e scegliete chiaramente il museo che più vi piace, quello più vicino a voi sicuramente la scelta in Sicilia non mancherà. Un'altra bella iniziativa di cui volevamo parlarvi invece si svolgerà a Taormina il prossimo 18 maggio al Teatro Antico. Si tratta di un concerto tributo in programma e dedicato a Franco Battiato, il celebre cantautore, il maestro Battiato. Perché nelle foto vedete Red Canzian? Perché i due erano molto amici e lo stesso Red Canzian, che conoscerete tutti, bassista e voce storica dei Pu, sarà protagonista insieme a Carmen Consoli e agli altri ospiti di questo importante evento. Red Canzian ha rilasciato anche alcune dichiarazioni, Franco Battiato e io eravamo amici, ha detto, quando nessuno dei due poteva trarne vantaggi. Eravamo amici e basta, con la stessa voglia di fare ricerca per una musica diversa e con la consapevolezza che la strada scelta non sarebbe stata facile ma che era l'unica che volevamo. Poi la vita a volte decide per noi e ci premia e così è arrivato il grande successo, prima a me con i Pu e poco dopo a Franco con l'album La Voce del Padrone. Dunque segnatevi quest'altra importante iniziativa in programma a Taormina. E chiudiamo parlando di sport, questa sera il Palermo ospiterà la Barbera, la Triestina nel ritorno dei playoff di Serie C, del primo turno playoff di Serie C. Si prevede grande affluenza di pubblico, saranno circa 32.000 i tifosi rossanero alla Barbera, il calcio d'inizio è alle 20.30, le immagini che vedete e l'entusiasmo che vedete si riferiscono al match di andata giocato a Trieste con l'esodo dei tifosi rossanero che hanno letteralmente invaso, ma pacificamente, chiaramente la città di Trieste e lo stadio triestino. Oggi i tifosi, come detto, sono pronti invece a riempire il Barbera. Si parte dal 2-1 dell'andata e dunque anche da parte nostra un grande in bocca al lupo ai ragazzi di Mister Baldini. Noi ci fermiamo qui, era l'ultima notizia, ma ci ritroviamo più tardi per una nuova edizione di Spazio Notizia sempre su Sicilia 24. A dopo! Notizia sempre suramer